Con Zoom è possibile partecipare a diverse riunioni contemporaneamente da PC. Per questa funzione ci sono dei prerequisiti. Bisogna avere un account, business, enterprise o education. Se non dovesse comparirvi l'opzione tra le impostazioni, Zoom ci dice che bisogna contattare il supporto per attivare questa funzionalità. La funzione si trova nelle impostazioni dal client in riunione base ed è denominata, entra simultaneamente in riunioni diverse sul desktop. Una volta che l'abbiamo abilitata dobbiamo seguire questa procedura. Ipotizziamo che abbiamo tre riunioni, avviamo la prima. Ora se ritorno sul client e vado sulla seconda riunione non posso avviarlo direttamente da qui. Al momento Zoom non lo permette. Per farlo dobbiamo recarci dal browser a questo indirizzo che vi sto mostrando. zoom.us.join Ed ecco che ci richiede di effettuare appunto l'ingresso. Allora copiamoci l'indirizzo, incolliamolo e entriamo. Zoom ci chiederà cosa vuoi fare. Basta cliccare su apri Zoom Meeting e Zoom avvierà un'altra riunione contemporaneamente sul desktop. Ed eccola qua. Andiamo con la terza. Bene, appena proviamo ad avviare la terza riunione, ecco il messaggio che ci appare. Hai già una riunione attualmente in corso, interrompi per avviarne una nuova. Quindi comprendiamo che il limite al momento è di due riunioni contemporanee. Quindi terminiamone una precedente. In questo caso Zoom interromperà tutte e due le riunioni precedenti. Quindi insomma a cosa potrebbe servirci questa funzionalità? Ipotizziamo che abbiamo due riunioni in corso in cui serve il nostro supporto sia nella prima che nella seconda. Potremmo alternarci e intervenire direttamente su entrambe le riunioni appunto per dare la nostra assistenza. Quando avremo entrambe le riunioni in corso avremo due tasti Termina 1 e 2. Ecco, in questo momento mi sono collegato a due riunioni che appartengono al mio stesso account. Se volessi collegarmi ad un'altra riunione guardiamo cosa accade. Vediamo, provo a collegarmi ad un'altra riunione completamente diversa. Perfetto, il discorso non cambia. Posso collegarmi comunque ad un'altra riunione. Quindi non avrò il tasto Termina come potete osservare. Non sono neanche l'organizzatore ma sono un semplice partecipante e posso appunto svolgere questa funzione di collegarmi contemporaneamente a due riunioni per qualsivoglia motivo. Assistenza a destra, assistenza a sinistra.